Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sarà un po' diverso dal solito, ma questa mattina mi sono svegliato e ho visto questo di video e quindi ho detto no, idea geniale, è una figata. Io lo rubo. Questo video nasce dal fatto che la famosissima youtuber, ma anche cantante, scrittrice, doppiatrice e attrice, con i capezzoli a forma di cuore, Greta Menchi, è entrata a far parte della giuria di qualità del festival insieme a personaggi come il figlio di Morricone, produttori discografici o bj della radio. Sicuramente sarà entrata a far parte di questa giuria per le sue qualità, le sue enormi qualità, che sono state più che altro quelle che l'hanno fatta diventare famose sul web, ma non voglio parlare più che altro di questo. Infatti voglio dirvi le altre cose nel mondo del fumetto che hanno senso quanto Greta Menchi che fa la giudice a Sanremo. Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso quanto Chimisayama che vince un premio come miglior disegno per il suo fumetto. Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso quanto Beceta che prende gli schiaffi da Rale in Dragon Ball Super. Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso quanto l'unatografo di Frank Miller venduto a 100 euro. Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso quanto i volumi da fumetteria della Planet Manga venduti a 7,50 euro. Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso tanto quanto chiedersi se è più forte Goku o Saitama. Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso tanto quanto chi compra i volumi in giapponese su internet e se li fa spedire. Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso tanto quanto Labbonelli che ancora si ostina a produrre Tex. La presenza di Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso quanto le uscite dei manga della Goen. La presenza di Greta Menchi nella giuria di Sanremo ha senso tanto quanto la trama di Fairy Tale. La presenza di Greta Menchie nella giuria di Sanremo ha senso tanto quanto i Ciro Oda che dopo oltre 70 volumi di One Piece dice di essere giusto a metà La presenza di Greta Menchie nella giuria di Sanremo ha senso tanto quanto questa inquadratura Spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto Fatemi sapere qua sotto altre cose che hanno senso tanto quanto Greta Menchie nella giuria di Sanremo E andatevi a vedere anche il video originale di Rizzo perché mi ha dato rispirazione per farlo e mi sono troppo divertito Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e condividetelo con tutti i vostri amici Potete anche iscrivervi a questo canale per rimanere aggiornati con i miei nuovi video Detto anche questo ciao ragazzi e noi ci vediamo prossimamente qua sul canale